Ciao ragazze e benvenute sul canale. Allora, oggi ho deciso di registrare il video dedicato all'inventario della mia collezione make-up e andremo a vedere insieme tutti i prodotti per quanto concerne la parte occhi, escludendo però le palette che vedremo separatamente. Questo video sarà, devo dire, abbastanza breve perché mi sono resa conto di non avere poi così tanti prodotti occhi e di questo, devo dire la verità, ne sono felice perché significa che non tendo ad accumulare troppi prodotti e quelli che ho riesco ad utilizzarli e a terminarli e quindi questo significa anche che tecnicamente riesco anche a smaltirli facilmente poi nel corso dell'anno. Quindi andiamo un po' per categorie e parto dagli ombretti singoli. Come ombretti singoli ho solo un ombretto di Mulac, che è questo qui, la Via N Rose. Quest'anno ne ho terminati altri due di Mulac che avevo, che erano due ombretti singoli, che mi restavano in collezione. La Via N Rose, voglio dire, sta ormai quasi al termine e quindi quest'anno non lo rivedremo. Non credo nemmeno di comprare altri ombretti singoli, sinceramente, anche se a volte mi viene voglia di comprare l'ombretto singolo di Puro Bio nella colorazione 01, che è quello champagne, che è uno dei miei ombretti preferiti. Però a parte quello, per ora, semmai lo trovo in sconto, non so, valuterò forse di comprarlo, però per ora non sento l'esigenza di possedere altri tipi di ombretti o altri ombretti, perché ho tante palette da dover terminare. Quindi sono contenta di essere riuscita anche ad utilizzare questo colore, perché è un colore rossiccio, che credevo di non riuscire a smaltire mai nella vita, perché io bene o male faccio trucchi abbastanza semplici, invece sono riuscita a sfruttarlo nella quotidianità, quindi molto contenta. Quindi su un ombretto ho un ombretto singolo e uno credo di riuscire anche a terminarlo. Poi è un prodotto per gli occhi, però non so in che categoria andare ad inserire, è il famoso Duraline di Inglot. Praticamente, vediamo se c'è scritto, se no ve lo spiego. No, non c'è scritto, figuriamoci se ci sono mai delle indicazioni. Vabbè, comunque, di cosa si tratta? Praticamente è un prodotto che serve per creare, per esempio, degli eyeliner con gli ombretti, oppure per ridar vita ai prodotti in crema. Si applicano praticamente qualche goccia di prodotto all'interno degli ombretti in crema, degli eyeliner in pot, delle pomade per le sopracciglia, che si sono magari seccati, si sono induriti, e quindi per ridare una nuova vita questo è davvero ottimo. Ed è un prodotto che onestamente consiglio di avere in impostazione, soprattutto se non avete Makeup Collection, voglio dire, esagerate, quindi se non avete 20 eyeliner, quindi questo può essere utile. Magari se avete 20 eyeliner lo sfrutterete poco, però secondo me vale la pena averlo, anche perché non costa, poi non ha un prezzo esagerato. Quindi è un prodotto che ha una sua utilità. Io ancora non l'ho utilizzato, però molto probabilmente voglio provarlo su la Black Track di MAC, che non è proprio secco, però è un pochino duretto, quindi voglio vedere che effetto fa. Quindi questo, onestamente, pur facendo parte della categoria occhi, non ho intenzione, diciamo così, di smaltirlo. Poi passiamo alle sopracciglia. Come sopracciglia ho solo due prodotti. Avevo anche una matita di Benecos, però sono riuscita a terminarla, quindi mi restano solo questi due. Allora, questo è un prodotto che io ho riacquistato, la pomade di Mulac, nella colorazione Black Onyx, che non so se si legge. Comunque, è la mia tonalità preferita, perché sapete che io ho le sopracciglia nere carbone e questa mi piace tantissimo. Ottima soprattutto se volete un effetto duraturo e comunque avete bisogno di magari ricostruire tutte le sopracciglia. Però è un prodotto che va fissato, perché poi, se nel corso della giornata, per esempio, vi toccate le sopracciglia, diciamo, tende... come dire... si toglie. Ecco. Quindi consiglio di fissarlo con un prodotto per le sopracciglia. Se invece comunque non avete l'abitudine di toccarvi la faccia, voglio dire, resta lì il prodotto, anche con il caldo a foso. Poi, questo è anche un prodotto che ho già utilizzato in passato e questa è la Ultra Brown. È una delle poche matite per le sopracciglia che mi piace, perché comunque è un nero... no, è un nero... è un marrone freddo e si sposa bene, insomma, col colore delle mie sopracciglia. Ripeto, io le utilizzo solo per riempire buchetti, quindi non vado a creare forme. Quindi mi ci trovo bene, io le applico la mattina e la sera, quando mi strucco, voglio dire, è ancora lì. Quindi, onestamente, se volete spendere poco, ve la consiglio. Questa, quindi, su due prodotti, uno almeno lo voglio terminare, questo richiede almeno un anno e mezzo di utilizzo continuo per poterlo terminare. Poi, passiamo alle matite. Allora, di matite ne ho 19. Direte, come mai 19? Perché praticamente mi hanno regalato questo set di matite. Vediamo se riesco a farvele vedere. Non le ho aperte, quindi le vedremo, diciamo così. Sono delle matite automatiche di tantissimi colori. Quindi, marrone, rosa, lilla, color salmone, un rosa più chiaro, arancione, arancione più scuro, un nero, giallo, un viola, un blu, verde, azzurro, un rosa pastello, un violetto, un verde, una matita bianca e una matita... non so, questo cos'è, un azzurrino, un celestino chiaro. E... quindi sono matite automatiche e... su 19, onestamente, ora non so quante... Questa sicuramente la voglio terminare. Quindi una, sicuramente sì. Siccome io le matite le utilizzo... non tantissimo più, onestamente. Forse è qualche anno che non le utilizzo più matite e ogni tanto mi piace applicare nella rima inseriore un ombretto, giusto quando voglio un po' di colore. Però per il resto le matite non le sfrutto e quelle che ho, come questa, io le utilizzo a mo' di eyeliner. Però, volendo terminare un po' di eyeliner, per ora, diciamo, le lascio un po' in stand-by. Poi magari quest'estate le utilizzerò, poi non so, magari vedremo. Però per il momento, perché non so, magari, se mi rendo conto di non sfruttarle, le regalo, non lo so. Comunque, per il momento, in smaltimento c'è questa, che è una matita di Siene della linea naturale e, devo dire la verità, non mi piace. Allora, il colore sbocciato sulla mano è scuro, è un bel nero intenso. Il problema di questa matita qual è? Che, innanzitutto, applicata come eyeliner e... Allora, se l'ombretto è matt e opaco, va bene. Già sugli ombretti shimmer non scorre bene, ma, tra l'altro, con questa matita riuscite a fare bene un occhio e... quindi con un bel nero, mentre l'altro, poi, siccome si è sporcato un po' di ombretto, risulta poi meno intenso e risulta più un grigio. e anche se è riuscita ad applicare questo colore nella sua intensità, comunque, nel corso della giornata, a parte che non dura tutta la giornata, ma dura mezza mattinata, comunque, mezza mattinata risulta un colore più spento, più sbiadito. Inoltre, tende anche a stamparsi. Io non la utilizzo mai nella rima inferiore, ma non ve la consiglio perché sicuramente, tra l'altro, se avete, se soffrite di lacrimazione all'occhio, questa va via subito. Quindi, onestamente, non è una matita sulla quale fare affidamento. Me ne manca poco, quindi spero di terminarla. Volevo provarla, l'ho provata, non mi è piaciuta, non la ricompererò, quindi se la rimettono da lì, la lascio lì. Poi, come prodotti, invece, di eyeliner veri e propri, ne ho tre. Allora, ho questi due che sono di MAC, il Black Trek e il Wovelin, non so come si pronuncia, come fa questo violetto, che, no, non è un violetto, ma credo che sia un blu, un blu, un blu elettrico, che avevo preso, quando ogni tanto ci sono i prodotti in saldo da MAC. Allora, devo dire che questi eyeliner mi piacciono tantissimo. Questo, purtroppo, l'ho utilizzato poche volte, mentre questo è il classico eyeliner a cui faccio affidamento quando esco la sera, quando ho una cerimonia, un pranzo importante, quando comunque ho bisogno di un prodotto affidabile, perché resta lì, anche se magari capita che a volte mi tocco, non so, l'occhio, resta lì, non si muove, è intenso, mi piace, facile anche da applicare e pur non essendo brava io nell'applicazione degli eyeliner, con questo, bene o male, riesco a farmi una riga di eyeliner. E per smaltire altri prodotti, questo non sono riuscita a sfruttarlo come si deve e niente, questo in realtà non fa parte, cioè il Black Trek fa parte del progetto smaltimento prodotti però siccome voglio provare anche questo di Sien, sempre della linea naturale che avevo comprato e siccome non so se è un prodotto affidabile e quindi li voglio utilizzare non in combo comunque li voglio utilizzare entrambi magari questo per andare al lavoro questo continuo ad utilizzarlo insomma per le serate importanti quindi su tre prodotti due li voglio portare a termine poi passiamo come ultimi prodotti hai mascara e ne ho veramente tanti quindi ossia ne ho cinque che per me sono tantissimi allora il mio mascara preferito è questo qui di MAC allora questo si chiama l'Extreme Dimension 3D ed è il mascara della vita perché praticamente mi fa un effetto ciglia finte bellissimo è proprio l'effetto che cerco io nei mascara me le allunga le vedo anche un pochino più vedo anche più volume però l'effetto allungante è super evidente e niente con questo ho l'effetto ricostruzione ciglia questo praticamente me l'ha consigliato una mia amica perché stavamo parlando di ricostruzione delle ciglia che ci sono diversi prodotti che ti permettono di incurvarle di averle lunghe e lei mi ha regalato questo mascara che mi è piaciuto così tanto da prenderne una ricarica perché voglio dire questo non lo cambierei per nulla al mondo poi sicuramente è un prodotto costoso perché stiamo parlando di mac però voglio dire è anche un prodotto che dura nel corso del tempo e niente quindi poi ho quest'altro sempre di mac che è una mini taglia del magic extension però non l'ho mai provato tra l'altro di questo se non sbaglio c'è anche nella versione waterproof però non ho sentito l'esigenza di prenderlo perché comunque questo è super affidabile e poi magari quello waterproof serve per chi si trucca e va in piscina non lo so però questo d'estate dura tranquillamente tra l'altro poi io d'estate sopra ci applico un fissante un acqua termale per andare a rinfrescare il viso e voglio dire non viene via niente poi ho questa mini taglia insomma dicevo di mac che non ho mai provato e questa mini taglia di Too Faced il Better Than Sex che ne ho sentito parlare tanto le ho regalato spesso alle mie amiche ma io non l'ho mai provato quindi questo anche è da mettere in utilizzo e poi ho questo di Siene allora io di Siene ne avevo provato uno in edizione limitata e poi non l'hanno più rimesso quello e ho deciso di provarne uno classico perché comunque con il mascara di Siene mi sono sempre trovata bene cioè mi danno l'effetto che cerco in un mascara quindi molto probabilmente nel momento in cui termino questo magari prima di aprire quest'altro che è il mio preferito vedo un po' di smaltirne qualcuno e quindi vediamo su 1 2 3 4 5 mascara e non lo so quanti potrei terminarne perché potrei concentrarmi sulle mini taglie e forse mi conviene concentrarmi sulle mini taglie quindi su 5 mascara 3 li voglio terminare e niente quindi questi erano tutti i miei prodotti per gli occhi e spero di smaltirne tanti e ci vediamo con il video sulle palette ciao ciao